Erano circa una ventina gli abitanti abusivi della struttura, per metà asiatici e per l'altra metà provenienti dai paesi dell'Africa centrale. Il blitz condotto da polizia, guardia di finanza e polizia municipale, con il supporto di una squadra di vigili del fuoco, è scattato alle prime luci dell'alba. Gli operai della Monteco, che già lo scorso 6 dicembre avevano effettuato una prima bonifica dell'edificio, sono entrati in azione per le attività di prelievo degli effetti personali e di sanificazione dell'area. Una squadra di operai ha provveduto invece alla muratura delle finestre e di tutti i punti d'accesso allo stabile, che si sviluppa su 5 piani. Gli stranieri, prima di lasciare l'ex ostello, sono stati identificati dal personale di polizia amministrativa diretto dal vicequestore, Francesco Barnaba, presente sul posto per coordinare le operazioni. Le persone che avevano i documenti in regola sono state libere di andare altrove, fra di esse ci sono 5 asiatici. Si tratta di ragazzi fra i 20 e i 25 anni usciti dal ferrotel con buste contenenti una manciata di indumenti e qualche utensile. L'immobile nel frattempo è stato sigillato. Stessa cosa si era già verificata dopo lo sgombero di una famiglia di bulgari effettuato nel luglio del 2011. Bastarono pochi mesi perché la palazzina venisse rioccupata, trasformandosi in una vera e propria favela in cui decine di persone, fra i quali anche alcuni crociari italiani, hanno vissuto in condizioni di assoluta precarietà. Senza luce, elettricità, gas e servizi igienici, con il cortile utilizzato come latrina e discarica. Ma che ne sarà adesso del ferrotel? A quanto pare l'immobile verrà messo all'asta nell'incertezza di chi possa essere realmente interessato ad acquistare una struttura affatiscente.